Liberare Christian D'Alessandro e gli altri 29 attivisti che erano a bordo dell'Arctic Sunrise fino allo scorso 19 settembre, quando la Guardia Costiera Russa ha abbordato e sequestrato la nave Rompighiaccio di Greenpeace in acque internazionali. Questo lo scopo dell'appello del Sindaco dei Magistris e dell'assessore alla cultura Nino Daniele. Sì, noi facciamo un vibrante appello e sollecitiamo le autorità russe a liberare presto questi ragazzi in considerazione del fatto che la loro azione è motivata da nobili ideali, da intenzioni sicuramente del tutto positive e buone. Quindi assolutamente non si può criminalizzare questa azione che loro hanno condotto. Vogliamo far sapere a Christian e a tutti gli altri ragazzi che la città di Napoli è al loro fianco e tranquillizzarli anche che siamo vicini ai loro familiari, che siano certo preoccupati, ma credo che tutti quanti dobbiamo avere fiducia nel buon senso e nel fatto che la pressione dell'opinione pubblica e delle istituzioni italiane e internazionali sicuramente risolveranno al più presto in modo positivo questa vicenda. La nave degli attivisti era impegnata in un'operazione di protesta contro le trevellazioni della piattaforma di Gazprom. Per questo dunque Greenpeace ha promosso tre giorni di mobilitazione e di solidarietà in tutto il mondo. Questa mattina a Napoli, la città natale di Christian D'Alessandro, uno degli attivisti accusati di pirateria dalle autorità russe, è stato srotolato un enorme striscione sul castello del maschio Angioino, con la scritta Liberate Christian, free the Arctic 30. Grazie a tutti. Grazie a tutti.